Il Movimento 5 Stelle nella città di Agropoli sta vivendo un momento particolare, un indebolimento del Movimento con la perdita di vari attivisti e aderenti è sempre stato sotto l'occhio di tutti, ma questa volta una vera e propria bufera sta colpendo quel che rimane dei 5 Stelle ad Agropoli. Ad essere nell'occhio del ciclone il consigliere d'opposizione e rappresentante del Movimento nel comune di Agropoli consolato Natalino Caccamo che sta subendo aspre critiche da tutti i pentastellati agropolesi e accusato di egocentrismo e non condivisione del suo operato. Io ricordo che sul primo manifesto elettorale non c'era neanche il mio nome perché è un progetto che va avanti ed è un gruppo, in effetti così è la logica del Movimento 5 Stelle, ha voluto che la partecipazione fosse al primo posto. Ora c'è da fare un cappello però alla situazione, c'è una situazione che va contestualizzata nell'ambito nazionale, vi è un movimento che ha affondato purtroppo molti di questi principi ed è caduto in tante contraddizioni, non devo farne io l'elenco, ma vi è un'ampia bibliografia a riguardo. A noi attivisti della prima ora dispiace perché io ci ho messo la faccia dal primo momento, non vi era neanche un parlamentare nel 2012, non vi era neanche la possibilità di eleggere una deputazione così importante, né tantomeno pensare che in cinque anni si potesse arrivare all'ordine di governo. Quindi quando uno ci mette il massimo dell'impegno, togliendo tempo alle cose più care, alla famiglia, al proprio lavoro, è lì che va testato l'impegno. Con lo stesso principio oggi svolgo la mia attività consigliare che è figlio appunto di un lavoro di gruppo e di una partecipazione. Io non manco mai di invitare le persone ad ogni appuntamento pubblico, ai consigli comunali, chiunque voglia mi può anche contattare. Noi abbiamo un sistema di comunicazione interno in cui siamo oltre 100 aderenti, in cui vengono comunicate ogni sorta di comunicazione che perviene alle mie PEC, che è il canale di comunicazione istituzionale. Quindi ogni convocazione di assemblea, ogni convocazione di consiglio comunale, ma anche di commissione. Consolato Natalino Caccamo ha inoltre risposto alle accuse di non rispettare il codice etico del movimento e precisamente di non essersi attenuto alla regola di rotazione dei consiglieri tenendosi stretto il suo ruolo politico nel comune di Agropoli. Il consigliere d'opposizione ha invitato gli attivisti 5 Stelle a farsi avanti, dichiarando di essere disponibile per una sostituzione sullo sgabbello di legno del consigliere comunale. Il mio intento è quello di trasformare la discussione leggera in atti di indirizzo politico. Questa è la mia missione. Sono a disposizione, sono a disposizione anche, chiarisco tutti, per chiunque voglia fare questo tipo di esperienza. Quando ci candidammo io diedi la possibilità a chi seguiva di farsi avanti. Oggi, chiaramente, nonostante i miei solleciti, si è sempre detto no, continua tu perché come dai tu non riescono a dare gli altri. Io non so cosa posso dare in più rispetto agli altri perché credo che ogni contributo sia valido. Però devono fare un passo avanti. Chi vuole fare questa esperienza ha la porta aperta. Non c'è bisogno di sfondare. Ha la porta aperta. Venite, c'è uno sgabbello di legno, chiaramente. Non vi aspettate di una poltrona perché quello che facciamo noi, prendendoci i salassi, le contumeli e le accuse dell'amministrazione. Lei sta mettendo per inciso che ci potrebbero essere anche i colleghi del Movimento 5 Stelle, città di Agropoli, che potrebbero salire negli scranni del Consiglio Comunale. Nero su bianco. Noi abbiamo condiviso un codice etico in cui io personalmente ho voluto il principio di rotazione. Fermo restando che chi segue deve farsi avanti perché io non posso andare a tirare la testa alle persone. C'è qualcuno invece che afferma il contrario. Venga qua, intervistalo, vedi un po' che dice. Caccamo ai nostri microfoni ha colto l'occasione anche per fare chiarezza su di un'altra situazione che lo sta colpendo in prima persona, ovvero le voci su un suo presunto passaggio politico alla Lega. Voci che hanno preso piede anche per una foto che sta girando sui social, che lo ritrae alla convention della Lega a Napoli. a cui era presente anche Matteo Salvini e che lo vede mentre scambia un saluto con il senatore leghista ed ex 5 Stelle Ugo Grassi. Il consigliere Caccamo ha smentito queste voci. Sì, allora Ugo Grassi è un professor universitario stimato dell'Università Partenope, illustre esponente del diritto e quando noi chiedemmo lui una mano per quanto riguardava l'esplicazione dell'indirizzo referendario per cui noi ci schieremmo apertamente, lui non se lo fece dire due volte, venne anche ad Agropoli sotto nostro invito e fu presente in piazza ad Agropoli a dare supporto alla nostra comunità, alla nostra intento politico. Non si trova indietro. Quando è stato lui a chiamare me per un breve saluto, seppur in un ambiente di altro orientamento politico, io anche per una sorta di coincidenza, perché in quel momento mi trovavo lì, sono andato a salutarlo. È chiaro che anche se ci fosse stata una telecamera, una macchina fotografica, ma io non nego il saluto a qualcuno che mi ha porto la mano perché c'è una telecamera, perché c'è qualcuno. La mia vita è praticamente pubblica, anche quella privata. La cosa che mi spiace è che poi la critica non entra nell'azione pubblica. In consiglio comunale c'è la vostra telecamera, voi potete vedere, voi siete presenti. Io, nonostante gli inviti, la partecipazione è difficile. Si entra nella vita privata, ma cosa c'entra la vita privata delle persone? Il rispetto personale dovrebbe essere la base della politica.